Non può mancare figli delle stelle in onore di Di Camillo questo, in onore di Di Camillo Domani quando parte l'Investor Day mettiamo figli delle stelle e lo diciamo prima Questa Catargena non la conosce, non la conosce, questa deve essere, questa deve diventare il suo adesso tu gli devi dire che è la canzone dell'estate guarda Catargena questa è la canzone dell'estate 2021 quindi lei torna in Polonia e rilancia figli delle stelle se ci fosse un NFT di Allianzorrente questo è business, questo è dimenticato io domani sono in Sony per il catalogo cioè andiamo a proporre la piattaforma per inestetizzargli il catalogo e ora bisogna chiamare Max quando ha tornato perché io gli ho proposto di fare di dare una percentuale indietro agli utenti in base allo streaming su Spotify ah tipo Bat il browser esatto bravissimo, bravissimo il concetto è quello lì, cioè io ti vendo il biglietto del concerto poi sulle canzoni del tour tu ricostruisci delle revenue che ti servono per comprarti gli altri biglietti però se servono le casse bluetooth no bisogna mettere le casse al cellino oppure sul casco perché l'ho visto uno che sciava perché qui bisogna pompare il volume eh sì lo so guardalo il molleggiato vai in parete bello bello ma al bilo grande ci vogliono le casse ci vogliono le casse ci saranno le casse da montandare devo appendere tipo un jlb piccolino da attaccare dietro alla sella io ho visto buono che sarebbe tenere qui oh 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 vai buongiorno buongiorno guarda il lago che bellezza vai Alan ti da una carica come una molla eh Alan Sorrentino buongiorno 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 questa spacca questa spacca all'orario giusto in discoteca solo questa ripeto ripeto ora mi compro il limite buongiorno guarda il lago che bellissimo spettacolo eh ma perchè non l'abbiamo fatta questa? eh questa l'ho fatta solo una volta di verità no perchè non avevamo più batteria ti ricordi? ah ok mica abbiamo già fatto quattro ore Marco questo è un limite adesso vi faccio il finino Ah si giusto Ve lo mando in esclusiva Bello Buongiorno Ciao